La luce di Cristo risplende sul volto della Chiesa. La Chiesa è in Cristo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Iniziava con queste parole la Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, intitolata Lumen Gentium, ossia Cristo luce delle genti. Che bello sentire la Chiesa non come ad una fredda istituzione, ma all'opposto come quella madre premurosa, la sposa di Cristo feconda, la quale si prende cura di noi peccatori, sollevandoci fino a toccare e sperimentare il volto dell'amore misericordioso del Padre, il quale per mezzo del figlio fatto carne, perdona, guarisce e salva. Vorremmo riscoprire insieme la sorgente vitale della nostra fede nella Chiesa, cercando di riscoprire, senza chiudere gli occhi alle nostre miserie umane di peccatori, la bellezza di proclamare immersi nello spirito di carità, credo la Chiesa sacramento di unità, credo la Chiesa avvolta nella santità, credo la Chiesa nella sua vocazione all'universalità dell'amore versi più deboli, credo la Chiesa nel suo essere in cammino, in sinodo, ad annunciare la gioia del Vangelo di Cristo al mondo.